Continuano le attività di vicinanza verso il popolo ucraino nella nostra regione. Dopo i convoli della Croce Rossa partiti questa notte dall'interporto di Avezzano, a pescare il gruppo consigliare dell'Udc sta dando vita in questi giorni ad una raccolta di generi di prima necessità, dai cibi per bambini al sale alle farine. Dove portarli? Dal lunedì al venerdì, dalle 9 all'una e dal lunedì al giovedì, il pomeriggio, dalle 17 alle 19 presso il gruppo consigliare Udc, sito a Palazzo di Città, secondo piano, stanza numero 26, ci sarò io oppure i volontari del gruppo consigliare che vi accoglieranno. Non solo alimenti, tramite mail e whatsapp sono stati richiesti anche materiali di primo soccorso. Kit pronto soccorso, tutti che mi hanno contattato, tutti hanno bisogno. Salvietini umidificanti perché dice che ci sono tanti bambini che devono essere un po' puliti, sottotirani, tele antigelo, vitamine, però è importante che sono antidolorifici, questi antinfiammatori perché ci sono tanti feriti che hanno bisogno di medicina dal primo soccorso. La presidente di Nessun Escluso, da 20 anni in Italia, si dice sorpresa della risposta positiva da parte dei cittadini di Pescara e dell'Abruzzo in genere. Lo so che i pescaresi sono molto accoglienti e molto adorabili, diciamo, però accoglienze talmente forti come questa volta, che i pescaresi, non solo pescaresi, tutti abruzzesi dall'Aquila, da Vasto, da Chieti, mi chiamano e mi chiedono dove devono portare la raccolta, che cosa serve. Io sinceramente non mi aspettavo un'accoglienza così forte. Il materiale sarà inviato tramite operatori in Ucraina, passando per il corridoio umanitario in Polonia.